Anche quest'anno tantissime le persone che sabato notte hanno partecipato ad Agropoli presso la parrocchia Santa Maria delle Grazie alla veia di Pasqua, la madre di tutte le veie, come la definiva Sant'Agostino, proprio perché da qui ha inizio tutto. L'annuncio della resurrezione, la speranza in un Dio che salva davvero, la gioia di sapersi sempre accompagnati dal suo amore. La funzione è stata caratterizzata da diversi momenti, benedizione del fuoco e della luce, liturgia della parola, liturgia battesimale, liturgia eucaristica. Una celebrazione intensa, qui grazie alla diretta realizzata da Cilento Channel, hanno potuto partecipare anche tanti anziani ammalati che si sono sintonizzati sulla nostra emittente per seguire tutta la veia. Ci sono state poi le messe del giorno, durante le quali sono state distribuite più di 2500 ampolline, donate dall'Istituto Polideagnostico Santa Chiara della Dottoressa di Buono e riempite con acqua benedetta proprio durante la liturgia battesimale. Le ampolline distribuite sono state poi usate dai fedeli per benedire le proprie case e le mense familiari.